Lavori in corso, bellezza più rispetto uguale Firenze. Si legge sulle recinzioni metalliche che restringono la carreggiata. Alla somma, visti i continui cantieri in piazza Piervettori, sembra però mancare un addendo. La pazienza di residenti esercenti ed automobilisti. Era il luglio 2020 quando, dopo 13 mesi di transenne, i lavori partiti a maggio 2019 sarebbero dovuti durare 120 giorni, ricorda il Corriere Fiorentino, fu tagliato il nastro della riqualificazione. Un primo lotto dal costo di circa 250.000 euro. Il restyling, pavimentazione e nuovi giochi e panchine è stato appunto sofferto a causa di numerosi imprevisti. Il lockdown, l'attesa dell'ok della soprintendenza per la necessità di sostituire alcuni alberi. E non ultimo, il conferimento dell'incarico ad un archeologo dopo il ritrovamento di manufatti durante gli scavi. Un aspetto, quello del rinvenimento di reperti, che si è ripresentato bloccando gli attuali interventi per l'installazione dei cassonetti interrati. Insomma, una piazza senza pace, con relativi disagi. Ad inizio aprile scorso è stato aperto il cantiere per la nuova isola ecologica. Il cartello delle lavorazioni riporta come data per l'ultima azione il 28 di aprile. Ma tutto è rimasto come oltre due mesi fa. Una voragine nell'asfalto circondata da cartelli e barriere, ma senza operai al lavoro.